Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo ha fatto tantissime tappe da Mondragone a Pugliano Casalvatori adesso qui ad Aversa con noi la nostra Anna! Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo Siamo qui nella seconda tappa del tour della barriera più grande del mondo